RIAGISCIA Di nuovo insieme con la pagina dedicata alle province di Bari Battefoggia in apertura a una storia che arriva dalla capitanata ed è quella di Amedeo Giancola che reagisce ad un tentativo di rapina mettendo in fuga i due malviventi brandendo un bastone. Noi l'abbiamo ascoltato. Il settimo atto predatorio subito in quattro anni da Giancola che questa volta non si è lasciato intimidire impugnando un bastone che teneva dietro al proprio bancone ha deciso di aggredire due rapinatori che spaventati dal gesto sono fuggiti via. Prima di farlo però uno di loro ha scagliato il coltello in direzione dei presenti fortunatamente non colpendo nessuno di loro e rimanendo incastrato nella stampante del lotto. Sull'accaduto indagano gli agenti di polizia del commissariato di San Severo che stanno verificando anche le immagini della videosorveglianza del quartiere oltre a quelle dell'attività commerciale. Questi fatti dunque però ascoltiamo le parole del signor Amedeo. Questa volta diciamo mi sento un po' stanco e vuoto. Mi sento proprio con la testa vuota. Lei cosa chiede alle istituzioni? Ma guardi io non ce l'ho con le forze dell'ordine perché qui a San Severo dovrebbero stare in ogni angolo. È impossibile fare una cosa del genere. Di sicuro dovrebbero attenzionare delle zone come la nostra che è commerciale un pochino di più. Però ribadisco non si può stare 24 ore su 24 a presidiarci. Vorrebbe l'esercito ma è impossibile. Erano dei ragazzini? Sì, erano travisati ma erano molto atletici quindi giovanissimi, 22, 23, 24 anni. Non ha trovato paura? Lei lo rifarebbe? Ah sì, a questo punto ormai adesso siamo entrati in guerra e così lo rifarei tranquillamente. Cosa si sente di dire un appello alla comunità, magari anche agli altri commercianti, imprenditori che vivono questa situazione come lei? Beh, di farsi forza. Dobbiamo combattere, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo combattere. Da oggi cosa farà? Sì, oggi farò qualche altra cosa per proteggermi però sono sempre dei pagliativi perché appunto c'è sempre l'improvvisazione di questa gente. Tu non sai che cosa riescono a pensare. Come se l'immagina Sansevero nel futuro? Sansevero purtroppo è una bella città, è veramente una bella città e questo non lo dico io che sono di Sansevero ma lo dicono tanti miei amici che mi vengono a trovare dal nord. Bisognerebbe cambiare un po' di cose, bisognerebbe che questa città diventi un attimo più vivibile, non è vivibile in questo modo. Ancora cronaca per parlare delle spaccate. Tra i negozi del centro del capoluogo pugliese in tre sono stati identificati come presunti autori di due diversi episodi risalenti allo scorso anno. Spaccate, il cerchio si stringe, sono state le numerose impronte digitali lasciate su loghi del delitto a incastrare tre soggetti originali del Nord Africa, ritenuti autori di due episodi in altrettanti esercizi commerciali del centro del capoluogo pugliese. Dei tre indagati, già noti alle forze dell'ordine, due sono stati raggiunti nelle case circondariali di Bari e di Lucera, mentre il terzo, senza fissa dimora come i propri complici, è ricercato su tutto il territorio nazionale. I due episodi si riferiscono alla sera del 28 febbraio e a quella del 17 marzo scorsi, rispettivamente ai danni di un ristorante e di un negozio di abbigliamento, dai quali furono portati via 1200 euro e 310 euro. Il furto del 28 febbraio sarebbe stato perpetrato da uno solo degli indagati, il quale utilizzando un tubo in ferro avrebbe creato in pochi minuti un barco nella vetrata da cui introdursi, trafugare il possibile, darsi rapidamente alla fuga a piedi, lasciando però numerose tracce. Il 17 marzo invece i tre indagati avrebbero lavorato insieme e sempre utilizzando una spranca in ferro e aprendosi un barco nella vetrata, anche in questo caso però l'attenzione li avrebbe traditi e oltre ad essere inquadrati più volte dalle telecamere presenti in zona, avevano lasciato molte impronte digitali. Il provvedimento restrittivo concorda con le risultanze investigative inerenti in analisi del fenomeno criminale delle cosiddette spaccate, particolarmente avvertito nel centro cittadino, a teatro di una serie di colpi perpetrati di notte ai danni di ristoranti, negozi di abbigliamento, bar, parrucchieri con vetrate su strada prontamente accessibili ai malintenzionati. Dall'Istituto di Pena di Mari, gli aiuti per i bambini terremotati di Siria e Turchia, i volontari unici fanno fatto visita al personale della casa circondariale per manifestare gratitudine per la generosità. Un impeto d'amore per aiutare i bambini colpiti dal terremoto in Turchia e Siria è la raccolta fondi del personale dell'Istituto di Pena di Bari per portare aiuti in quei paesi piegati dal dramma del sisma. Il terremoto del 6 febbraio scorso ha generato una tragedia resa ancora più drammatica dal freddo intenso che si è abbattuto su quei territori. Adesso è una lotta contro il tempo per salvare quante più vite possibili e mettere in protezione tantissimi bambini rimasti feriti, molti dei quali orfani. La campagna Unicef, a loro favore, continua in maniera incessante per non dimenticare che ciascuno ha diritto alla vita, alla sopravvivenza e alla crescita in ogni parte del mondo. E così il personale del Francesco Rucci e la sua direttrice, Valeria Pirè, stanno mostrando grande sensibilità e impegno per il diritto alla vita e la sopravvivenza di quei bambini con la loro donazione. Un bellissimo gesto di solidarietà. È stato un gesto d'impeto, venuto fuori in una cena con i colleghi e dalla sensibilità e la loro attenzione anche al mondo esterno, nonostante tutti i giorni siano impegnati a farsi carico della sofferenza all'interno. È stata un'iniziativa spontanea, durata pochi giorni, e ci siamo organizzati con il professor Corriere in maniera che potesse essere consegnato questo assegno in tempo utile per la raccolta in corso. La direttrice diceva impeto, è bellissima questa parola. Impeto perché significa che c'è una grande sensibilità e una grande attenzione, per cui non c'è stato lo spazio di riflessione, ma nell'immediatezza, quando parliamo di sostegno ai bambini e alle bambine, soprattutto in questa condizione tragica del terremoto in Siria e in Turchia, questo impeto significa anche sensibilità, significa anche dono e guardare al di là delle proprie frontiere, per cui hanno intercettato questa sofferenza al di là delle mura e sono andati oltre. Questo è un grande segno, è un grande segnale di solidarietà, ma anche di umanizzazione dei percorsi. Una pagina dedicata al lavoro. Nella BAT si registra un incremento del 5% sulla ricerca di lavoro da parte delle aziende. L'attività di streaming delle candidature presentate ai centri per l'impiego segnala una conformità dei profili, tutto sommato buona rispetto ai requisiti richiesti. Cresce l'interesse da parte delle aziende per i servizi offerti dai centri per l'impiego, nella BAT. Il miglioramento progressivo del processo di incontro domanda offerta di lavoro e dei servizi dedicati alle aziende si evidenzia nell'aumento degli annunci aperti, giunti a 195. Emergono anche dati positivi sul numero di persone assunte attraverso le prestazioni svolte dai centri per l'impiego e della Sesta Provincia. Sono stati effettuati in croci domanda offerta del 25,12% degli annunci. L'attività di screening delle candidature pervenute segnala una buona conformità dei profili rispetto ai requisiti richiesti e una crescita costante. La media è emersa dall'ultima edizione del report e di 5 curricula trasmessi per ogni postazione aperta. Le offerte dei centri per l'impiego garantiscono pari e piene opportunità per ogni tipologia di utente, con proposte che spaziano in numerosi ambiti professionali e formativi. Molte, le offerte dedicate alle categorie protette e ai progetti per gli utenti interessati alla mobilità transnazionale, in notevole crescita, turismo e ristorazione, con 201 persone ricercate. In leggero calo, sanità, servizi alla persona e pulizia. Per i ragazzi dai 18 ai 28 anni sono disponibili 110 progetti di servizio civile universale, sviluppati da enti pubblici e del terzo settore, nella VAT, con 358 posti disponibili. Dicono no alle privatizzazioni e ai ricorsi, ad appalti e subaffidamenti che rischiano di alimentare sfruttamento e precarietà. Mari, la protesta dei ferrotranvieri della STP. Siamo ai piedi del palazzo della provincia di Bari, sul lungomare Nazario Sauro. Loro sono gli autoferrotranvieri, dipendenti della STP, azienda pubblica che sembra ormai fagocitata dalle logiche privatistiche del consorzio COTRAP. È questa la loro denuncia. Tra le esternalizzazioni delle linee e la chiusura dell'officina del deposito di Bari, a causa di un rilevato grave rischio, che avrebbe potuto verosimilmente determinare lesioni gravi per i lavoratori, si stanno mettendo a rischio le retribuzioni e le competenze del personale, spiegano. I dipendenti temono una progressiva svendita dell'azienda, che in quanto pubblica vorrebbero fosse tutelata, e non data in pasto alla mala gestione e all'incuria, di cui la mobilitazione che coinvolge anche la Puglia. Al fianco degli autoferrotranvieri, le OSB dicono no alla mattanza delle privatizzazioni selvagge, dicono no ai continui ricorsi ad appalti e subaffidamenti, che alimentano sfruttamento e precarizzazione. C'è tanto personale lasciato a casa, dicono, con metà dello stipendio, compromettendo lo stesso diritto alla mobilità dei cittadini. Noi oggi chiediamo che la STP, in quanto azienda di trasporto pubblico, venga tutelata, che venga riaperta immediatamente l'officina, che vengano re-internalizzate le linee e che la STP non sia più sottoposta a logiche privatistiche come quelle del COTRAP, che è il consorzio del quale li fa parte. La scuola, le associazioni Sbam e Azione Giovane hanno incontrato il proeditorato per fare il punto su quella che è la situazione delle scuole superiori nel capoluogo. Un sit-in per dire di no alle inefficienze scolastiche, per migliorare edifici obsoleti e non più al passo con i tempi. Gli studenti delle associazioni Azione Sbam alzano la voce, denunciando una situazione che preoccupa soprattutto in provincia di Bari. Chiesto a tal proposito un tavolo col sindaco De Caro, che allo stesso tempo è a capo anche dell'area metropolitana. Abbiamo notato numerosi problemi di edilizia nelle varie scuole e soprattutto negli impianti di riscaldamento. Con scuole che sono vecchie da più di 50 anni, la ristrutturazione da fare è assolutamente necessaria, per cui siamo qui oggi per chiedere al sindaco De Caro, che è soprattutto sindaco metropolitano, quindi gestisce in particolare i propri problemi di edilizia, un tavolo tecnico con noi ragazzi, e riuscire finalmente a superare tutti questi problemi che portiamo avanti purtroppo da troppi anni nella città di Bari e non solo, anche nella provincia. Molti istituti di Bari, per non dire proprio la maggioranza, stanno risentendo di questa mancanza di caloriferi funzionanti, ma ho detto sono innumerevoli le problematiche, bagni che non funzionano, rotti, senza porte. Abbiamo realizzato una mappatura in questi due anni con i rappresentanti e i nostri studenti nelle scuole e è emerso un quadro terrificante di tutti gli istituti. A Bari forse è stato fatto anche un intervento più massiccio negli anni scorsi con lo stanziamento di fondi, ma la provincia è abbandonata a se stessa, se posso fare questa puntualizzazione. Ci spostiamo nella BAT, gli addetti ai lavori di una ditta appaltatrice di acquedotto pugliesi avrebbero sversato in mare in quel di Barletta liquidi non ancora identificati. La denuncia arriva dagli ambientalisti e mobilita l'ARPA. Questi sono i risultati. Un anomalo sversamento di liquidi in mare a Barletta. La denuncia dell'ambientalista Antonio Binetti ha mobilitato i tecnici di ARPA Puglia che hanno effettuato prelievi dei sedimenti sulla litoranea di Ponente, dove erano in corso lavori appaltati d'acqua edotto pugliese per la realizzazione di una nuova condotta. È stato opportuno per me allertare immediatamente la guardia costiera per i primi rilievi. Nel video di denuncia diffuso sul web è chiaramente visibile una tubazione lunga di circa 200 metri che dal cantiere presente sulla strada riversa liquidi tutt'altro che trasparenti sulla battigia sino a raggiungere il mare. Alla guardia costiera Binetti ha sottolineato la presenza di due pompe di aspirazione, una nello scavo e l'altra in un tombino di fogna. Gli addetti ai lavori avrebbero dichiarato che il liquido sarebbe stato smaltito sulla battigia e non nei vasconi presenti in cantiere. A causa di un problema tecnico, acquedotto pugliese sostiene che non si tratti di acqua fognaria. Si attende nei prossimi giorni l'esito delle analisi di Arpa Puglia. Vuole tanto che le analisi vengono rese pubbliche alla cittadinanza perché i cittadini devono sapere che tipo di liquido è stato scaricato sul sedimento. Restiamo nella batta. Barletta ha cominciato i lavori per il secondo fronte della stazione Bari Nord. La manutenzione dell'aria in via Vittorio Veneto prevede anche la chiusura del barco d'accesso ai binari dal 27 febbraio prossimo. Al via i lavori per il secondo fronte di stazione a Barletta in corrispondenza dell'accesso alla linea ferroviaria Bari Nord. Il cantiere prevederà la chiusura del barco d'accesso ai binari dal lato di via Vittorio Veneto a partire dal 27 febbraio per garantire una maggiore efficienza nel corso della manutenzione. La necessità di chiudere la porticina che dal 27 febbraio è una necessità legata a dare la possibilità al cantiere di lavorare a pieno regime e quindi realizzare anche le opere nei tempi previsti dal finanziamento quindi entro il 31-12-2023 devono essere terminati i lavori e quindi noi contiamo però di riaprire il passaggio anche prima. Le operazioni di concerto con Regione Puglia Ferrotranviaria e Rete Ferroviaria Italiana cambieranno il volto di Barletta nelle attività correlate anche quella del parcheggio multipiano interrato che darà supporto alla viabilità stradale. Daremo una sicurezza maggiore perché andremo ad allargare il marciapiede quindi il fronte stazione Bari Nord sarà allargato è un momento importante per la città perché stiamo cambiando veramente il volto di questa zona daremo la possibilità a tutti di attraversare e arrivare facilmente in centro perché il Comune si è onerato anche di fare un parcheggio interrato che darà la possibilità a tutti di parcheggiare e arrivare in centro praticamente in pochi secondi perché ci sarà un collegamento importante con massima sicurezza per tutti. Noi il 27 d'intesa con la Ferrotranviaria abbiamo deciso di chiudere e quindi sarà l'occasione per comunicare ai cittadini quali saranno i nuovi percorsi e qual sarà il futuro strategico di questa zona. Una doppia pagina che parla di informazione e di formazione, educazione, formazione e creatività ai punti cardine del progetto Identità Reale e Virtuale promosso dalla scuola Dante Alighieri di Modugno. Il cinema, visto come fonte di cultura e possibilità di guardare e di interpretare la realtà con occhi diversi educare, formare e stimolare creatività con queste premesse la scuola di primo grado Dante Alighieri di Modugno dà vita al progetto Vivi Identità Reale Versus Identità Virtuale l'iniziativa è stata realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dai Ministeri della Cultura e dell'Istruzione. Sicuramente è uno dei progetti a cui gli alunni stanno partecipando con molta motivazione perché hanno capito che il linguaggio cinematografico potrebbe essere per loro uno strumento forte di comunicazione e chiaramente quando si parla di cinema non si parla solo di visione ma sicuramente è un modo come un altro per raccontare e raccontarsi quindi nelle problematiche di oggi secondo me è un forte strumento di crescita. Il progetto si articola in due format educativi incontri di formazione e poi realizzazione di un'opera audiovisiva e di pillole digitali per il web coinvolti 100 studenti i laboratori sono affidati a professionisti del settore. Sia l'anno scorso che quest'anno i ragazzi si sono mostrati molto contenti di questa esperienza e quindi in virtù di questo fatto abbiamo deciso di approfondire questo argomento e di far sì che loro partecipassero vivamente alla realizzazione di un cortometraggio. Laboratori culturali, musicali e artistici ma anche mostre cittadinanza attiva a Carbonara, periferia est di Bari la nuova biblioteca di comunità della rete Colibri. Tre laboratori culturali, nove di animazione alla lettura e altri tre linguistici e digitali e oltre a 90 appuntamenti culturali di comunicazione musicale, artistici, mostre di cittadinanza attiva, festival, letture animate, cineforum e letture circolari è dedicata a Vito Mauro Giovanni uno degli intellettuali baresi più amati di tutti i tempi che ha impegnato la sua vita a riscoprire le tradizioni recuperando la complessità del dialetto barese fino a consegnarlo a una nuova dignità letteraria la nuova biblioteca di Colibri rete delle biblioteche di Bari all'interno della scuola De Marinis di Carbonara ma con un accesso indipendente che ne consentirà la fruizione anche in orari extrascolastici. Io sono qua soprattutto per Vito Mauro Giovanni sono qui per questo bellissimo quartiere nel quale abbiamo tanto lavorato e siamo qui ovviamente per questa comunità straordinaria che oggi inaugura una struttura culturale importante che siamo certi contribuirà a costruire cittadini più consapevoli. Una bellissima biblioteca a Carbonara in un quartiere di Bari dove bambini e bambine potranno avere uno spazio tutto loro per poter crescere meglio accanto ai libri ma uno spazio di aggregazione che significa per loro avere la possibilità di fare comunità. Il Colibri di Bari è un sistema di biblioteche di comunità integrato che offre servizi in tutte le periferie geografiche e sociali della città 11 biblioteche Mauro Giovanni è la prima che si apre al pubblico E intanto proseguono anche i corsi di digitalizzazione riservate agli over 65 Proseguono a Bari le campagne di educazione e sensibilizzazione degli over 65 in merito alla digitalizzazione ossia avere maggiore dimestichezza con social dispositivi tecnologici e con l'uso di internet aspetti che aiutano ad una maggiore integrazione nella società ma anche a prevenire truffe ed inconvenienti il corso finanziato dall'assessorato al welfare è realizzato anche con il contributo dell'associazione prospettivamente ad esito dell'avviso pubblico Officina Urbana di Cittadinanza per la terza età Al momento abbiamo formato già circa 150 persone con una decina di edizioni del corso e adesso partiamo qui con questo corso che supera 20 persone L'argomento che suscita più interesse senza dubbio è il discorso della sicurezza informatica quindi l'attenzione particolare alle truffe e quant'altro e poi molto interesse suscitato dal discorso speed che è anche quello forse un po' più complicato che però apre un mondo nuovo Gli auspici è quello appunto di poter garantire le pare opportunità a tutti anche in termini di fasce di età Pioggia di milioni non soltanto nel Barese si festeggia anche nella Bat È stata acquistata al Bartabacchi di via Parrilli a Barletta una delle 90 quote del fortunatissimo sistema bacheca che ha sbancato il fatidico jackpot del superenalotto per una vincita complessiva di 371 milioni di euro Il fortunato possessore della cedola si è aggiudicato una cifra di poco inferiore a 4 milioni di euro Il proprietario della ricevitoria al momento non ha idea di chi possa essere Sono contento per il vincitore spero che sia un cliente abituale e spero che si ricordi di noi La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi CISAL uno strumento che consente di acquistare online quote preparate direttamente dai professionisti CISAL I sistemi sono giocate formate da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi di realizzare vincite multiple ad esempio con un sistema da 7 numeri indovinandone 4 si centra 3 volte il 4 e 4 volte il 3 La combinazione vincente del concorso in questione era composto dai numeri 1, 38, 47, 52, 56, 66 numero Giolli 72, numero Superstar 23 tutti i sistemi proposti dalla bacheca sono suddivisi in quote e per questo accessibili a tutti Prima di tutto gli faccio gli auguri e poi spero che si faccia sentire per un caffè diciamo Ho saputo che c'è stata una vincita importante Sì, sì, l'ho saputo Purtroppo no, mi spiace mi sarebbe tanto piaciuto però abbiamo preso delle volte anche le schierine qui però ma non ho mai vinto nulla finora Ah no? No, purtroppo no ne ho comprato un'altra stamattina presso il caffè ho preso una schierina Nella speranza che la prossima possa toccare a me Cera, rete di alluminio, tela e resine da regista teatrale a pittore e scultore Enzo Toma porta al centro polifunzionale dell'Università di Bari la sua prima mostra personale La visione di un regista teatrale trasferita su sculture e quadri si chiama gli ori di Enzo Toma la mostra personale del regista pugliese al centro polifunzionale studenti dell'Università degli Studi di Bari Toma porta in esposizione ali realizzate con cera rete di alluminio e tela nate da un'esperienza teatrale e solo in seguito di venute delle sculture ci sono poi creazioni realizzate con resine la maggior parte dei lavori è in bende gessate e sono per lo più dei calchi di una o di parte di un calco i quadri invece sono tutti figli della tecnica delle icone bizantine qui l'artista realizza non solo delle classiche icone ma anche icone contemporanee l'arte è creatività, immaginazione, intuizione, improvvisazione e questo ci avvicina al bello che ci aiuta a superare le incertezze e la complessità del nostro quotidiano e qui con la ricerca del bello che possiamo ancora perseguire un dialogo tra di noi secondo Toma ed è questo ciò che si ritrova nelle opere dell'artista sia quando usa tecniche antiche che ci riportano in contatto con la storia dell'arte sia quando spinge la sua ricerca nella contemporaneità dei materiali e dei sentimenti sono qui esposte sia delle sculture o dei lavori plastici come dei quadri la tecnica dei quadri è quella delle icone bizantine mentre la tecnica delle sculture è quella delle bende gessate o come calco oppure come lavoro mio poi di manipolazione della materia o della creta cruda quello che mi rappresenta molto è questa lingua di papaveri è un po' per il meraviglioso colore rosso è un po' perché crescono contro ogni legge di natura crescono perpendicolari all'asse terrestre nasce a Biceglie la biblioteca di comunità di Villa Angelica vediamo il quartiere Sant'Andrea di Biceglie accoglie la nuova biblioteca di comunità di Villa Angelica un immobile in stato di abbandono e trascuratezza diventa così il simbolo di aggregazione culturale in una delle zone più popolose della città giovedì mattina l'inaugurazione della struttura riqualificata grazie ai fondi europei per lo sviluppo regionale inauguriamo oggi la biblioteca di comunità qui nel quartiere Sant'Andrea un punto di riferimento in questo quartiere considerato periferico ma che in realtà è uno dei più popolosi della nostra città era ormai diventata improcassinabile in questo quartiere creare una struttura che potesse accogliere le famiglie quindi soltanto un presidio di cultura ma anche di formazione e informazione ma anche soprattutto un luogo importante dove poter accogliere le famiglie e ricreare anzi quelle relazioni tra generazioni la cerimonia si è svolta alla presenza dei ragazzi di numerosi istituti scolastici bicegliesi un modo per avvicinare i più giovani alla cultura e alla conoscenza attraverso i presidi di lettura all'esterno del semplice orario di studio presenti i vertici dell'amministrazione comunale che hanno già annunciato l'inizio dei laboratori pomeridiani all'interno della nuova biblioteca credo fosse proprio questo lo spirito del finanziamento regionale e quindi credo che questa nuova struttura diventerà ben presto anzi già l'è diventata avendo l'inaugurazione odierna un punto di riferimento non soltanto del quartiere Sant'Andrea ma credo dell'intera città fermiamo ora la nostra ultima notizia il giornale termina qui ma la linea passa alle edizioni di Taranto Brindisi e Lecce arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti